Il Corvo di Edgar Allan Poe Letto dall'avido alchimista Una volta in una tetra mezzanotte, mentre meditavo, debole e stanco, su un molto bizzarro e curioso volume di un sapere dimenticato, mentre sonnecchiavo, quasi appisolandomi, giunse là improvvisamente un colpire leggero, come di qualcuno che gentilmente battesse, battesse alla porta della mia camera «È qualche visitatore?» murmurai «Che bussa alla porta della mia camera?» Soltanto questo e nulla più Distintamente ricordo che si era nel fosco dicembre e ogni separato morente tizione proiettava il suo fantasma sul pavimento, febbrilmente desideravo il mattino, vannamente avevo tentato di trarre dai miei libri un sollievo al dolore, al dolore per la perdita di Leonora, per la rara e radiosa fanciulla che gli angeli chiamano Leonora, senza nome, qui per sempre. E il serico, triste, vago fruscio di ogni tenda purpurea mi faceva trasalire, mi riempiva di fantastici terrori mai provati prima, così che adesso, per calmare il battito del mio cuore e andavo ripetendo «È qualche visitatore che supplica di entrare alla porta della mia camera?» Qualche tardivo visitatore che supplica di entrare alla porta della mia camera questo è nulla più immediatamente la mia anima divenne più forte, non esitando più a lungo «Signore!» dissi «Oh signora, veramente imploro il vostro perdono, ma il fatto che io sonnechiavo e voi veniste così gentilmente a picchiare, e voi veniste così levemente a picchiare, a picchiare alla porta della mia camera, che io ero poco sicuro di avervi udito!» A questo punto aprì interamente la porta, tenebre là e nulla più, scrutando profondamente in quelle tenebre rimasi a lungo stupito, impaurito, dubbioso, sognando sogni che mai nessun mortale e osò sognare. Ma il silenzio rimase intatto e la quiete non diede alcun segno. L'unica parola l'ha pronunciata fu la sussurrata parola «Leonora!» Questo sussurrai e l'eco mormorò dietro la porta «Leonora!» semplicemente questo e nulla più. Ritornando nella camera con tutta la mia anima dentro di me fiammeggiante, udii subito un battere un poco più forte di prima. «Sicuramente…» dissi. «Sicuramente c'è qualcosa all'infisso della mia finestra. Fa che io veda dunque cosa c'è là ed esplori questo mistero. Fa che il mio cuore si calmi un momento ed esplori questo mistero. Questo è il vento e nulla più». Spalancai l'imposta, quando con molta civetteria battito d'ali avanzò colà un maestoso corvo dei santi giorni d'altri tempi. non fece la minima riverenza, non un minuto si fermò o rimase, ma con aria di dama o gentiluomo si appollaiò sopra la porta della mia camera. Si appollaiò su un busto di pallade appena sopra la porta della mia camera. Appollaiato e seduto e nulla più. Poi, inducendo quell'uccello d'ebano, la mia triste immaginazione a sorridere con il grave e severo decoro che si dava. «Sebbene la tua cresta sia tagliata e rasa…» dissi. «Tu non sei certo un vile, orrido, torvo e antico corvo errante dalla riva notturna. Dimmi, qual è il tuo nobile nome sulla plutonica riva della notte?» disse il corvo. «Mai più!» Molto mi meravigliai nell'udire parlare così chiaramente questo sgraziato volatile. sebbene la sua risposta poco significasse, poca pertinenza avesse. Perché non possiamo non essere d'accordo che nessuna vivente e umana creatura giammai fu beata della visione di un uccello sulla porta della sua camera, uccello o bestia su un busto scolpito sulla porta della sua camera, con un nome tale come mai più. Ma il corvo, sedendo solitario sul placido busto, proferì soltanto quell'unica parola, come se la sua anima in quell'unica parola fosse fusa. Niente di più egli poi pronunciò. Nessuna penna, egli agitò. finché io, appena di più, mormorai. «Altri amici sono già prima volati via. All'indomani egli mi lascerà con le mie speranze, che sono già prima volate via.» Allora l'uccello disse «Mai più!» stupito dalla calma rotta da una risposta così giustamente pronunciata. «Senza dubbio!» dissi. «Ciò che pronuncia è soltanto il suo sapere e la sua ricchezza. Presi da qualche infelice padrone che uno spietato disastro seguì veloce e seguì più veloce finché le sue canzoni non ebbero che un solo fardello, finché i lamenti della sua speranza non ebbero che quel malinconico fardello di mai, mai più.» Malgrado il corvo inducesse ancora la triste immaginazione e il sorriso, sospinsi una poltrona di fronte all'uccello, al busto e alla porta. Quindi, affondando nel velluto, mi misi a collegare immaginazione a immaginazione. Pensando cosa questo sinistro uccello d'altri tempi, cosa questo torfo, sgraziato, orrido, scarno e sinistro uccello d'altri tempi, intendeva significare, gracchiando mai più. Così sedevo, preso dall'indovinare ma non esprimendo alcuna sillaba al volatile, cui occhi infuocati ardevano ora nell'intimo del mio petto. Sedevo, divinando questo e più, con la testa in tranquillità reclinata sulla fodera di velluto del cuscino che la luce della lampada trastullava con piacere, «Ella non premerà mai più». Poi parve che l'aria si facesse più densa, profumata da un invisibile incensiere, fatto oscillare da serafini, il cui passi risuonavano sul pavimento mochettato. «Disgraziato!» gridai. «Il tuo Dio ti ha prestato, per mezzo di questi angeli ti ha inviato! Il sollievo, il sollievo è il nepente per le tue memorie di Leonora! Tracanna, oh tracanna questo piacevole nepente e dimentica questa perduta Leonora!» disse il corvo. «Mai più!» «Profeta!» dissi. «Cosa del male!» «Profeta, nonostante ciò, se uccello o demonio, sai che dal terrore inviato, sia che dal terrore inviato, sia che la tempesta ti abbia gettato qui a riva, desolato ma interamente indomito, su questa terra incantata, su questa casa protetta dall'orrore, dimmi davvero, ti imploro!» «C'è, c'è un balsamo in Gilead!» «Dimmi, dimmi, ti imploro!» disse il corvo. «Mai più!» «Profeta!» dissi. «Cosa del male!» «Profeta, nonostante ciò, se uccello o demonio!» «Per quel cielo che si curva su di noi!» «Per quel Dio che entrambi adoriamo!» «Dia quest'anima carica di dolore, se nel lontano Eden essa abbraccerà una santa fanciulla che gli angeli chiamano Leonora!» «Abraccerà una rara e radiosa fanciulla che gli angeli chiamano Leonora!» disse il corvo. «Mai più!» «Sia questa parola segno di addio!» «Uccello o demonio!» urlai alzandomi. «Ritorna! Nelle tempeste sulla plutonica riva delle notte!» «Non lasciare nessuna piuma nera come una traccia di quella menzogna che la tua anima ha pronunciato!» «Lascia inviolata la mia solitudine!» «Libera il busto sopra la mia porta!» «Togli il tuo becco dal mio cuore e porta via la tua figura dalla mia porta!» disse il corvo. «Mai più!» E il corvo, mai scappando via, è ancora posato. Ancora è posato sul pallido busto di pallade, appena sopra la porta della mia camera. I suoi occhi proseggono tutta l'apparenza di quelli di un demonio che sta sognando. e la luce della lampada, scorrendo su di lui, proietta la sua ombra sul pavimento. La mia anima, fuori di quell'ombra, che giace ondeggiando sul pavimento, non si solleverà mai più. e il corvo. E il corvo di che godotica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.